Approvato il piano di contrasto agli incendi boschivi della regione Campania per il triennio 2020-2022, per il quale sono state già stanziate risorse per 51.464.000 euro. Il piano si basa sulla interazione tra tutte le forze in campo e attiva l'intero sistema con oltre 1.800 uomini e donne, oltre alle squadre regionali 100 unità di cui 68 direttori operazioni, spegnimento, saranno impegnate le comunità montane, le province e la città metropolitana con oltre 1.000 operatori per l'intervento da terra. SMA Campania, circa 200 addetti, vigili del fuoco e flotta aerea composta da 7 elicotteri. A supporto saranno operative anche le associazioni di volontariato con circa 400 volontari disponibili in caso di emergenza. Le procedure sono redatte anche in coerenza con le misure per il distanziamento sociale e prevenzione relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Gli elicotteri assicureranno copertura dell'intero territorio, un mezzo per ciascuna provincia, più due di supporto ad eventuali emergenze. Attraverso i dati forniti dai carabinieri forestali e dall'analisi degli incendi boschivi in Campania negli ultimi dieci anni, 2009-2019, è stato possibile realizzare molteplici elaborazioni statistiche che hanno portato all'aggiornamento della cartografia, al fine di strutturare una strategia complessiva di contrasto e definire i territori sui quali potenziare la distribuzione dei direttori, delle operazioni di spegnimento e di tutte le squadre operative. particolare attenzione è stata riservata alle pianificazioni antincendio dei parchi e delle aree protette della Campania.